E siamo in una prossima missione... Ehm... Sì... Sì, abbiamo la donna scimmia... A posto... E' buono... Vabbè, sì... Ho trovato un pombo di fucile... Che poi non mi è chiaro... C'è... Questi ponti... Cioè, come cazzo si chiama? Li lasciano così i ponti... Bello... Mo facciamo grande esplosione... Kaboom... Noi grande esplosione aveva fatto... Mo da questo coso... Sta cosa può passare? No, che palle... Ma che cazzo mi serve sto cosa allora? Vabbè, basta buttarsi da sotto... Ma se... Chi cazzo è questo? Che cazzo è questo? Uno, due... Ehm... Vabbè... Sempre in foto di cubetti... Eh... Ma che c'è chi è? Oh... Buonasera... Oh, è fatto perché... Ah... Ha già visto la vita... Ho capito... Ma io... Ma io gli do a far esplodere il coso... Ha già capito... Ha già capito... Vedi... Quello che sta là sopra... Ehm... Mo li dovremmo mettere... Eh sì... Eh sì... Ho capito... Eh... E però... Vabbè... Bello... E mo dobbiamo mettere l'elica... È leggermente morto... È ovvio... Tipo così... Tipo quando uno fa così... Che bel clacson... Ma già capito... E mo... Amo a scappare... Cì... Io avrei almeno la pancia tutta rossa... Eh no... C'è la maglietta rossa... Lo dico per... L'ustione... Più o meno... Bello... E quindi mo siamo su... Suli camion... Li camion... Ho capito... Vogliono lo camion... Ma apposta... E mo... C'è dei morì... Ma questi chi sono? E mo... A posto... A posto... Come cazzo si passa? Madonna... Che palle... Ok... Così mo ti tolgo l'arma... Tu non mi spacchi più li maroni... Oh... Che palle... Ma hai rotto li maroni... E non finisce più sta missione... Dai che mo... Vale... Ma dobbiamo saltare 3, 2, 1... Ok... E ho capito... Ma non finisce più sta missione... C'è mo scherzo a parte... Eh... Perché io l'ho fatto fino a mo quel coso... Me la vasto... Eh... Madonna... 3 ore... Eh... Che palle... Dio stronzo... Eh... Dio cane... Quanto mi danno a cazzo le missioni lunghe... Voglio... Le missioni lunghe... Ma quanti camion stanno? Cioè... Ma pur volendo... Quanti camion stanno? 13... E dai... 1, 2... Cioè... Poi mi fai fare la cosa che devo saltare... Tanto per far vedere la cosa... Eh... E dai... Mille euro che cade giù qualcosa... Bello... Non può... Non potrà baciare lui... Eh... Sì... Mo cosa dorme... Non ha già capito... Ma se mi cazzo a tenere... Quando... C'è quando si vede così... Buonasera... Eh vabbù... Tre... Ovviamente tre ore di filmato... Che tu... Non puoi saltare... Ma con sto vento... Io oggi non ci vanno in palestra... Vabbè signori... Tu mi raccomando... Metti mi piace... E noi ci vediamo al prossimo video...